Salve a tutti, qui Divus che vi parla e vi dà il benvenuto a questo nuovo video. Negli ultimi anni il mondo del cinema e delle serie tv è stato dominato da prodotti capaci di fatturare milioni e milioni di dollari, i film di supereroi. Certo, direte voi, i fumetti avevano già consacrato l'immagine del supereroe e questo è assolutamente vero, ma non si può negare che il successo del Marvel Cinematic Universe e in minor grado della controparte DC ha portato i supereroi a una popolarità mai vista prima. Ma che cosa accadrebbe se esistessero realmente delle persone dotate di superpoteri? Si concretizzerebbe uno scenario alla The Boys, alla X-Men o qualcosa di diverso? Cerchiamo di rispondere a tale quesito in questo nuovo video. Prima di iniziare, come di consueto, vi invito a seguirmi sui social, basta cercare Lorenzo Divus su Instagram, Facebook e TikTok. Facciamo una piccola premessa prima di immergerci nei vari scenari. Il concetto di supereroe, ossia di uomo dotato di abilità, capacità e poteri straordinari, non è di certo una creazione del nostro mondo contemporaneo. Figure simili sono sempre esistite, basta volgere lo sguardo alla mitologia. Prendiamo l'eroe più famoso e rinomato della mitologia greca, ossia Eracle, noto ai romani come Ercole. Eracle è dotato di una forza incredibile, grazie alla quale sconfigge mostri e creature varie, garantendo la sicurezza e il quieto vivere. Ma Eracle è anche un eroe civilizzatore, che traccia strade, che fonda città. In poche parole, le storie incentrate su di lui erano diffusissime e molto popolari. Figure simili si trovano anche in vari contesti mitologici, ovviamente. L'umanità ha sempre avuto la premura di immaginare eroi ed eroine a cui ispirarsi e di cui tramandare le imprese, senza tralasciare però anche qualche loro lato oscuro. Non è un segreto che diversi antropologi e sociologi considerano i nostri supereroi e le loro storie come una nuova forma di mitologia, di storie condivise ed estremamente popolari capaci di affascinare i più giovani, ma anche di porci davanti a interrogativi morali ed etici. Uno dei più classici è un eroe è libero di uccidere altre persone, intesi i suoi nemici, oppure dovrebbe evitare questa cosa a tutti i costi. Come ben sappiamo alcuni personaggi non si fanno scrupoli, altri invece tentano di rimanere sulla retta via, per così dire. Ma che cosa accadrebbe se delle persone dotate di poteri, dei meta-umani, si palesassero nel nostro mondo? Nell'introduzione ho menzionato due possibili esiti, ossia quello alla The Boys oppure quello alla X-Men. The Boys, nata come serie a fumetti e adesso prodotto di punta di Amazon Prime Video, racconta un mondo dove i superuomini esistono e sono delle vere e proprie superstar, delle macchine da soldi, che possiamo definire come degli influencer ad altissimo livello. The Boys insiste anche sul degrado morale di questi eroi, che sono persone violente, depravate e incapaci di provare qualsiasi forma di empatia, insomma delle persone orribili che però sguazzano nella loro fama e nella loro sfrenata ricchezza. Nella realtà si potrebbe avverare uno scenario alla The Boys, credo che i supereroi diventerebbero effettivamente delle celebrità. Questo aspetto trova spazio anche nell'MCU, e quindi volendo delle macchine da soldi. Del resto lo sono già, anche se non esistono nel senso fisico del termine. Figuriamoci se esistesse realmente un Thor, un Cap America o un Superman. Grandi marchi e compagnie vorrebbero accaparrarsi gli eroi più famosi, come uomini immagine. Poi starebbe al singolo eroe decidere come comportarsi, come vendersi eccetera. Esattamente come accade agli attori, agli sportivi e agli influencer del nostro mondo. Allo stesso tempo però credo che ci sarebbe un'altra questione sul tavolo, una questione molto più ingombrante a livello etico. Chi controlla gli eroi? A quale autorità devono sottostare? Nei film Marvel uno dei momenti più critici è la firma degli accordi di Sokovia, accordi pensati per portare gli Avengers e altri eroi sotto il controllo delle autorità statali. Ora dipende dal tipo di eroe e dai suoi poteri, ma persone capaci di distruggere una città a piacimento dovrebbero per forza essere sottoposte a una forma di controllo, anche solo per rassicurare l'opinione pubblica. che sarebbe spaccata su questo tema. I governi più o meno in segreto procederebbero anche a sviluppare dei protocolli di contenimento e gestione dei meta umani, ma anche qui dipende dai poteri con cui devi confrontarti. Una cosa è gestire un Capitano America o un Iron Man, un'altra un Superman, un Thor, una Scarlet Witch eccetera. Un esempio in tal senso proviene dall'universo di Invincible, dove i servizi segreti americani sono sempre alla ricerca di strategie per contrastare un super fuori controllo. Credo poi che qualcuno ergerebbe, quasi a dei, questi superumani dai grandi poteri. Altri invece li considererebbero una maledizione, qualcosa di sbagliato, che non dovrebbe nemmeno esistere. Un alieno dai poteri divini che svolazza per la nostra amata Terra? Noi non lo vogliamo! Che faccia l'eroe a casa sua! E così arriviamo allo scenario X-Men. La storia editoriale degli X-Men è legata a doppio filo con i temi della discriminazione, della diffidenza o dell'odio verso il diverso, e delle conseguenze di questi fenomeni, ahimè, molto realistici. Gli X-Men sono infatti dei mutanti, e per questo sono temuti. Alcuni li considerano dei veri e propri mostri, una minaccia per la nostra specie. La fazione guidata dal professor Xavier tenta di seguire la strada del dialogo, ed è la convivenza proficua. Il gruppo capeggiato da Magneto invece lotta per la supremazia dei mutanti e per il loro predominio sulla Terra. Credo che, anche in uno scenario realistico, ci sarebbero delle persone che andrebbero a temere i supereroi in quanto diversi. Si sa, il diverso tende a incutere un certo timore, e tale timore può sfociare in discriminazione o peggio, in vero e proprio odio. Esponenti politici e ideologi cavalcherebbero questi sentimenti in cerca di consenso e potere, insistendo sulla necessità di poter contrastare e contenere i super, in modo che essi non siano una minaccia per gli esseri umani normali, tra virgolette. D'altro canto ci sarebbero personalità e gruppi che lotterebbero per l'integrazione, per l'accettazione e la collaborazione. Ciò dipende anche poi dal numero di questi supereroi, perché in X-Men sono davvero tanti, se fossero pochi la dinamica sociale sarebbe diversa. È comunque possibile che i due scenari arrivino a coesistere, con eroi sia oggetto di grandi introiti che di discussioni a carattere politico. Vi è poi un altro scenario da tenere in considerazione, l'uso di persone dotate di superpoteri in ambito militare, insomma come delle vere e proprie armi viventi, se così possiamo dire. Si possono fare vari esempi in tal senso, ma quello che mi viene in mente subito è il dottor Manhattan di Watchmen, che essendo un'entità dotata di poteri sostanzialmente divini, viene schierato nella guerra del Vietnam, decretando il successo degli Stati Uniti contro le forze comuniste. Sappiamo benissimo come le principali potenze militari siano sempre alla ricerca di nuove armi, più evolute e più potenti, per poter superare l'arsenale della concorrenza, creando di conseguenza un effetto di deterrenza. Avere dei superumani nelle schiere del proprio esercito darebbe indubbiamente un vantaggio sul campo di battaglia, e anche a livello di rapporti tra le nazioni. Sapere che il tuo nemico è in grado di schierare un Superman, un Wolverine o un Hulk, beh ti farebbe pensare due o tre volte alle conseguenze di un attacco o di un conflitto. Un po' come accade nei confronti delle nazioni che sono dotate di un proprio arsenale nucleare. Un esempio in tal senso è la Corea del Nord, che è intoccabile per via delle sue armi atomiche. Insomma, come andrebbero le cose se esistessero questi supereroi? Credo che la dinamica protocolli di Sokovia sarebbe assolutamente presente. In un certo senso anche lo scenario alla The Boys, con gli eroi come superstar, credo si concretizzerebbe. Business is business, per citare una grande massima. Non mancherebbero poi i denigratori dei metaumani, ma nemmeno coloro che li vedrebbero come delle figure semidivine o divine da seguire a tutti i costi. La nostra specie è molto brava nel prendere posizioni differenti e contrapposte, per poi difenderle a spada tratta, tanto da scivolare purtroppo anche in guerre aperte. Credo che questa contrapposizione si verificherebbe anche in presenza di uomini dotati di superpoteri, aprendo scenari molteplici. Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine anche di questo video, quindi non mi resta che passare la palla a voi. Fatemi sapere quali sono i vostri scenari nel caso in cui i supereroi esistessero realmente, secondo voi come andrebbero le cose, la sezione commenti vi aspetta. Se questo video è stato di vostro gradimento lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale perché no, attivate la campanella. Se volete supportare le mie creazioni potete farlo attraverso la funzione abbonamenti oppure super grazie direttamente su YouTube. In alternativa Paypal e TP link in descrizione. Vi invito ancora una volta a seguirmi sui social e ci vediamo a un prossimo video. Ciao a tutti! Grazie a tutti!